Vai Don, quando vuoi! Buona gara a tutti! Buon passo, eccoli qua! Eccoli qua, vediamo una maglia verde per Alpi! Per Alpi, poi vediamo uscì i rotelli! E Gazzoli, che conquista la sua seconda vittoria stagionale, Gazzoli riesce a recuperare le trepi al comando. E Gazzoli, inizio di stagione per Michele Gazzoli, ispiratore Telly Master Chrome. Grazie a tutti!